... ... Vediamo che l'interno, l'interno verso l'interno, demoni un fio, don Rodrido, Bostuana... ... Martini, la mossa è buona, cadere a parte in Bostuana, nei consunti di diavolo stagetta, che forza per portarsi al comando... ...diavolo stagetta, nei consunti di Bostuana, voi demoni un fio, don Rodrido... ...diavolo stagetta, rimane attardata Capitanella, così, c'è addirittura un bosta con il vantaggio di diavolo stagetta... ...che conduce nei confronti di Bostuana, voi demoni un fio, don Rodrido, a chiudere Capitanella... ...allarga parecchio per il secondo passaggio, diavolo stagetta che comunque mantiene la leadership nei confronti di Bostuana... ...poi demoni un fio, e viene avvicinato da don Rodrido senza recupero di speranza, che Capitanella... ...si fa così, all'attacco della quarta piegata, con il vantaggio sempre diavolo stagetta... ...nei confronti di Bostuana, poi demoni un fio, don Rodrido, demoni un fio, poi Bostuana che rimane all'interno... ...un ultimo giro, con ancora tutto incerto, dopo il vantaggio di diavolo stagetta nei confronti di Bostuana... ...poi demoni un fio, don Rodrido e Campitanella... ...si arriva così, in quest'ordine, all'ultima piegata, dove diavolo stagetta conduce nei confronti di Bostuana... ...poi demoni un fio e don Rodrido... ...è affronta così l'addirittura, dove diavolo stagetta vince nei confronti di Bostuana, demoni un fio... ...e don Rodrido... ...e don Rodrido... ...e don Rodrido...